Marino, 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 hai fatto un bel casino. Marino, 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 hai fatto un bel casino. Ancora un giorno di protesta, ancora un altro sit-in in Campidoglio. I lavoratori della Multiservizi non si arrendono e protestano contro il rischio sempre più concreto di perdere il posto di lavoro dopo la scelta dell'amministrazione di appaltare le attività svolte dalla Roma Multiservizi ad un'altra ditta. La Comune ha deciso di entrare in Consip e questo fa sì che distrugge questa società, la svalorizza. E tutti noi non si sa se tutti verremo ricollocati in altre aziende. E le aziende che però sono del CNS sono tutte cooperative e noi questo non lo vogliamo. Quelle che sono sui pulmaco e i disabili hanno un contratto di tre ore. Le fanno sette al giorno per portare i disabili da una parte all'altra di Roma nelle varie scuole che frequentano. Le altre ore che fanno, come le povere, questo, solo questo che risparmio lo fa così sulla pelle del cittadino e del nostro. Grazie a tutti!